Senza gli infortunati a Cardi e Izzillo, la Virtus Franca Villa va a Crotone a caccia dell'impresa per riprendere la corsa verso la salvezza. Subito convocati Branduani e Garofalo con il portiere che certamente partirà dal primo minuto. Tra campo e mercato, in conferenza stampa il tecnico Roberto Chiuzzi ha toccato tutti i temi. Sicuramente torno nella mia terra, poi in una piazza dove comunque in Calabria e in mare da anni ha fatto la storia con una proprietà importante che lavora nel calcio che conta in un modo maniacale ed è comunque per noi calabresi un orgoglio avere una realtà, una società del genere. Per quanto riguarda la gara, ovviamente noi guardiamo in casa nostra, guardiamo qual è il momento soprattutto, che è il momento magari nelle ultime tre anni la prestazione di Picerno, comunque le prestazioni la squadra le ha sempre fatte però nella cura del dettaglio si deve lavorare tanto, nell'attenzione al dettaglio. È normale che poi il mercato ti dà una mano, quello è normale perché alza comunque il livello di competizione, il livello di attenzione diventa ancora più alto. Il giro di ritorno sappiamo che è un giro in assè, ogni gara è una finale per tutte, quindi dovremmo affrontarla in questo modo. Quando arrivano forze fresche, arriva aria nuova anche a livello mentale è fondamentale perché stiamo affrontando una nata difficile, però nelle difficoltà vai a costruire quelle che poi sono delle imprese. Le imprese vanno fatte non solo col cuore, vanno fatte con la testa e soprattutto vanno fatte con l'unione d'intento. Quindi più gente arriva, gente nuova, con freschezza mentale diversa, riesce secondo me a dare sempre quel qualcosa in più e quella marcia in più forse ai ragazzi, sicuramente è quello che serve a loro.